L'esercito russo non esclude di prendere il controllo totale delle grandi città ucraine, fa sapere il Cremlino, precisando che non c'è una data di fine operazioni. Nel diciannovesimo giorno di guerra, bombardato lo stabilimento degli aerei Antonov, che si trova a 10 chilometri da Kiev, sempre stamani nella capitale, colpito anche un condominio di nove piani, di due morti e di tre feriti, il bilancio provvisorio. Intanto la centrale di Chernobyl è nuovamente tagliata fuori dalla rete elettrica. E se il ministro degli esteri ucraino invoca l'invio di tutte le armi necessarie per costringere Putin al fallimento, contemporaneamente sono ripresi negoziati in videoconferenza tra la delegazione ucraina e quella russa. Per Kiev il confronto è difficile, ma la trattativa va avanti. Intanto a Roma incontro tra il consigliere alla sicurezza nazionale americano Sullivan è il capo della diplomazia del partito comunista cinese. Pechino nega di aver ricevuto richieste di armi dalla Russia e il Cremolino afferma di avere il potenziale per continuare da solo. Secondo l'ONU sono più di 2 milioni e 800 mila, fin qui i civili fuggiti dall'Ucraina dopo l'invasione russa. 35 mila i profughi che sinora hanno raggiunto l'Italia, dove stanno ricevendo assistenza sanitaria e vengono vaccinati. speciale quest'oggi con il direttore Mentana a partire dalle ore 17. Buona giornata dal telegiornale della Sette, siamo al diciannovesimo giorno di conflitto. Avete sentito dal nostro unico titolo quanti temi che ci riportano su un doppio binario che abbiamo imparato a raccontarvi. Da una parte la diplomazia che pure tenta una strada sottile ma che comunque resta da percorrere perché quel filo non va spezzato e dall'altra naturalmente le notizie che ci riportano al campo. Su diversi fronti, le ultime notizie ci parlano di un bombardamento, di un attacco a un stabilimento dove si costruiscono aerei Antonov. Qualche più importa che siamo a pochi chilometri, una ventina dalla città di Kiev. È stato bombardato anche un condominio con un bilancio ancora da definire in termini di perdite di vite dei civili. E poi ci sono i civili che sono in fuga. Questi li abbiamo raccontati e mostrati a più riprese. E poi gli annunci del Cremlino che riguardano dal loro punto di vista la possibilità di controllare tutte le città del paese anche senza ancora una scadenza. Cominciamo da qui, dal campo. Suonano le sirene antiaeree e cresce la paura in Ucraina. Almeno 19 delle 24 province del paese sono sotto il fuoco presso che continuo dell'artiglieria russa. Dalle 11 del mattino, ora locale, è un susseguirsi di esplosioni in tutta Kiev. A causarle, secondo CNN, sarebbero le batterie di difesa aerea ucraini allertate contro velivoli o missili russi. Dal centro della capitale si innalzano diverse scie di fumo. Una granata colpisce un edificio residenziale di nove piani, proprio nel nord-est di Kiev. Muoiono due persone e altre tre vengono ferite, almeno secondo i servizi di emergenza ucraini. Il Consiglio comunale, ripreso dalla BBC, riferisce di altre due vittime, stavolta nell'impianto di produzione degli aerei Antonov, bombardato dai russi a Sviatoskin Airfield, 10 km dal centro della capitale. Il presidente ucraino volò di Mirzielensky visita i soldati negli ospedali. Vinceremo, dice, in uno dei suoi video in cui esorta la popolazione a resistere. Ed è quello che, secondo quanto dichiarato dalle autorità al Kiev Independent, i due milioni di residenti rimasti nella capitale, ormai accerchiata, starebbero facendo, anche se le scorte di cibo basteranno per solo due settimane. Mentre il ministro degli esteri, Kuleba, torna a chiedere all'Occidente maggiori aiuti e più armi. Secondo l'agenzia Union, che cita il ministero dell'interno ucraino, il sanguinario leader ceceno, Ranzan Kadyrov, fedelissimo di Vladimir Putin, a capo delle milizie collegate a presunti piani clandestini per uccidere Zielensky, sarebbe nascosto in un seminterrato nel distretto di Ivankov, a Kiev. Intanto, è sempre più disperata la situazione a Mariupol, città sul Mardazov, martoriata dai bombardamenti. Secondo le autorità locali, sarebbero già almeno 2.500 i morti e 400.000 i civili intrappolati. Tra le vittime, ci sarebbe anche la donna incinta, fotografata subito dopo il bombardamento, la settimana scorsa, dell'ospedale pediatrico di Mariupol. Trasportata d'urgenza in un altro ospedale, dove i medici sarebbero intervenuti subito, la giovane non si è salvata e con lei ha perso la vita anche il piccolo che portava in grello. Si bombarda anche a Kharkiv, regione in cui ad essere prese costantemente di mira sarebbero case ed ospedali, infrastrutture e industrie. Anche a Leopoli, nel nord-ovest dell'Ucraina, l'allarme aereo sarebbe durato più di 5 ore, costringendo tutti a cercare riparo nei rifugi. Ieri, missili russi avevano colpito il centro di addestramento di Avoriv. A 50 chilometri da Leopoli, a 20 dalla Polonia, uccidendo 35 persone. Tutto questo mentre la Russia starebbe pianificando un attacco navale contro Odessa, dopo averne rimandato uno nei giorni scorsi a causa del maltempo, che avrebbe costretto la flotta a tornare a Sebastopoli, in Crimea. A questo proposito, Mosca annuncia di aver aperto il corridoio terrestre tra il Donbass e la Crimea. Nuovo allarme a Chernobyl, che sarebbe rimasta ancora senza elettricità. Finora sarebbero 2 milioni e 800 mila le persone fuggite dall'Ucraina, secondo l'UNHCR e l'Agenzia ONU per i Rifugiati, ma si prevede che a questo ritmo, entro un paio di giorni, saranno 3 milioni. In tarda mattinata, l'annuncio del Cremlino. L'esercito russo non esclude di prendere il controllo totale delle grandi città ucraine. Nessuna data per la fine dell'intervento militare. Con ancora le notizie dal campo, che arrivano naturalmente tutte da verificare, come quest'ultima, che arriva dal leader filorusso dell'autoproclamata Repubblica Separatista di Donetsk, che denuncia un attacco ucraino in cui avrebbero perso la vita almeno 17 civili, compresi dei bambini. Naturalmente, se queste sono le notizie che arrivano dal campo, è facile capire quanto è complicato il percorso diplomatico, che pure prova a ripartire, in questo caso, il quarto round di negoziati tra Kiev e Mosca in videoconferenza, per usare le parole del portavoce del Presidente ucraino. Le comunicazioni sono difficili, ma avanzano. Le posizioni di partenza le conosciamo, quelle di arrivo sono complicatissime da in qualche modo immaginare, anche perché c'è un fronte che ci riporta alle accuse degli Stati Uniti nei confronti della Cina e degli aiuti a Mosca. E anche questo, naturalmente, è un terreno molto scivoloso dal punto di vista diplomatico. Niente ultimatum, linee rosse o inviti alla capitolazione. Mosca sembra voler avviare negoziati costruttivi. L'ultimo aggiornamento sui negoziati in corso lo dà lo staff del Presidente Zelensky. Stavolta in videoconferenza il quarto round dei negoziati russo-ucraini è cominciato alle 9.30 italiane. Il formato delle due delegazioni è lo stesso degli incontri precedenti in Bielorussia, dopo il faccia a faccia la settimana scorsa tra i ministri degli esseri, Kuleba e Lavrov, conclusosi con un nulla di fatto, ma in realtà le parti in conflitto in questi giorni non hanno mai smesso il dialogo a distanza. Chiederemo a Mosca il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe, annuncia prima di cominciare Mikhailo Podoliak, consigliere del Presidente ucraino, che anticipa, ho dato mandato ai negoziatori di fare di tutto per arrivare ad un incontro, a quattro occhi con Vladimir Putin. Anche Roma, oggi al centro del lavoro diplomatico, in un albergo della capitale, il consigliere della sicurezza nazionale statunitense, Jack Sullivan, ha incontrato il capo della diplomazia del partito comunista cinese, Yang Jiechi. Finora, Pechino ha sempre smentito di aver ricevuto dalla Russia la richiesta di un aiuto militare e dopo i toni aspri di ieri, Washington punta adesso a trovare un accordo sull'applicazione dell'imponente pacchetto di sanzioni, varato dagli occidentali. Sanzioni che invece il governo cinese ha criticato duramente. Abbiamo pronti altri provvedimenti duri, ha annunciato il Presidente del Consiglio europeo, Michel, che però non intende rivelare i dettagli della questione per cogliere di sorpresa Mosca. Anche Israele assicura di non voler valificare le sanzioni imposte. Il Ministro degli Esteri Yair Lapid, oggi in Slovacchia, ha detto di lavorare ad un coordinamento con i partner occidentali. Poco fa, intanto, il portavoce del Cremlino Peskov ha dichiarato che nessuna assistenza militare è stata richiesta alla Cina all'operazione speciale in Ucraina, prosegue secondo i piani e sarà completata regolarmente, ha detto. A Mosca, invece, Sergei Lavrov ha visto il Ministro degli Esteri del Catare in agenda, accordi energetici e i negoziati in corso. In conferenza stampa, al termine dell'incontro, Lavrov ha ribadito la posizione di Mosca dall'Ucraina. Non dovrà più arrivare nessuna minaccia per la Russia, assicurando anche che all'istituzione di corridoi e alla consegna di aiuti umanitari ai civili, Mosca presta la massima attenzione. Allora, torniamo al racconto di una parte del Paese, perché non in tutta l'Ucraina la situazione è la stessa. Abbiamo imparato con il racconto dei nostri inviati. Ci sono zone sulla carta, formalmente, che vengono considerate ancora sicure, anche rifugio di profughi, come la città di Leopoli. Però mai così vicino erano arrivati, anche ai confini nati, i missili di Putin. Dunque, forse l'aspetto che ci arriva di giorno non è lo stesso di notti, sempre più brevi. È quel che chiedo al nostro inviato, Fabio Angelicchio. Buongiorno, Fabio. Ciao Cristina, buongiorno. Io sono collegato in questo momento da Leopoli. Come ricordavi tu, è il paradosso di questa città, ve lo stiamo raccontando, è quello di una vita normale. Io vi faccio subito vedere e chiedo all'operatore Giuseppe Fiasconaro di girare la camera sulla sua destra per guardare le persone che stanno passeggiando e arrivano qui su questa piazza principale, dove poi c'è anche il municipio, poi può fare una carrellata e andare anche dall'altra parte per rendervi conto di una apparente vita normale. Però pensate che questa mattina sono risuonate le sirene di allarme aereo, le sirene con le modalità da adottare da parte della popolazione in caso di attacco, ovvero quello di chiudere le utenze, di prendere i documenti e di trovare quanto prima riparo in un rifugio sicuro. Il rifugio, per la verità, che abbiamo visto anche oggi, ne abbiamo visitato uno, sono in realtà degli scantinati, sono gli scantinati che si trovano nei condomini dove trovare riparo. Naturalmente poca cosa rispetto a quello che può essere un bombardamento. Ma torniamo alla situazione. Allora, oggi, questa mattina, alle mie spalle, vedete, c'è l'ingresso di un media center, un centro per i giornalisti. C'è stata una conferenza stampa e in questa conferenza stampa ha parlato il sindaco di Leopoli, che poi è uscito e si è intrattenuto anche con noi giornalisti. Ha detto molte cose, però è stato anche polemico con la comunità internazionale. Ha detto che la comunità internazionale deve venire qui e rendersi conto di persona, di cosa sta succedendo. Ha chiarito molto bene, ha detto che non devono esserci delle intese su Zoom o su Telegram, devono venire qui per rendersi conto di qual è la situazione. La situazione, lo avete già raccontato, lo stiamo raccontando da giorni, è una situazione drammatica. Tutte le città del paese, lui stesso lo ha ricordato, sono scosse da questa violentissima e drammatica guerra, questa avanzata del fronte russo che si sta spostando, tra l'altro, proprio qui, verso Leopoli. È il caso di ricordare, ieri, l'attacco che c'è stato nella base di addestramento, che è soltanto a 20 chilometri dal confine, con la Polonia. Una chiara provocazione anche, quella da parte dell'esercito russo, dell'aviazione russa, che comunque ha detto, lì ci sono dei mercenari stranieri e noi li colpiremo finché arrivano qui in Ucraina. Però a settembre, in quella stessa base, c'era stata una grande esercitazione che aveva visto anche il coinvolgimento degli assetti e delle truppe dell'Alleanza Atlantica. All'interno della stessa base operavano anche degli istruttori della Nato. Quindi un messaggio chiaro che lancia Putin alla Nato ed anche all'Europa, naturalmente. A te Cristina per il momento. Grazie Fabio, naturalmente buon lavoro e il tuo racconto che tornerà, ve lo ricordo, anche nello speciale delle 17 che ci terrà compagnia come ogni giorno dall'inizio del conflitto alle 17 su questa rete con il direttore Enrico Mentana. Andiamo adesso a uno dei capitoli, quello economico, che non possiamo sottovalutare, non lo possiamo fare noi, arriveremo anche ai nostri guai, ma d'altronde tutta la comunità internazionale e i primi a recepire le tensioni, ma anche quei piccoli spiragli aperti di dialogo sono naturalmente i mercati anche questa mattina. Gli occhi sui colloqui russo-ucraini con le notizie dei piccolissimi spiragli diplomatici apertisi nel weekend a fare da tranquillante ai mercati europei che viaggiano per il momento in territorio positivo consolidando quel recupero che pur nell'estrema volatività avevano sperimentato anche la settimana scorsa. Un buon avvio non intaccato neanche dalla performance negativa con l'eccezione di Tokyo, di mercati asiatici spaventati dalla recrudescenza della pandemia di Covid-19 in Cina, che ha portato le autorità a mettere in lockdown un hub della tecnologia come Shenzhen, con tutte le conseguenze sul possibile ulteriore blocco di catene di approvvigionamento globale già molto in difficoltà. Un campanello d'allarme che per ora non è dunque risuonato nelle piazze del vecchio continente. Capitolo materie prime per quanto riguarda il petrolio, sia il Brent che il WTI proseguono nel lieve calo cominciato la scorsa settimana e scendono sotto i 110 dollari al barile. Stesso discorso per il gas, che sul mercato di Amsterdam viene scambiato sotto i 120 euro al megawattora. Una boccata di ossigeno dopo i record toccati nei giorni scorsi, benché i prezzi rimangano elevatissimi e lo scenario di incertezza globale non permetta certo di immaginare una consolidata tendenza al ribasso. Incertezza che permane ai massimi livelli per quanto riguarda Mosca. La banca centrale russa ha deciso di prorogare la chiusura della borsa per tutta la settimana, salvo alcune sezioni con regolamento in rubli. Il mercato valutario è quello dei metalli preziosi. Sarà la terza consecutiva senza transazioni. Uno dei sintomi di quanto le sanzioni occidentali stiano colpendo la Russia con il rublo. Oggi in lieve recupero crollato di oltre il 30% dall'inizio del conflitto e il PIL che avrebbe polverizzato in pochi giorni 30 miliardi di dollari. Circa il 2%, con prospettive di crollo nel 2022 tra il 9 e il 15%. I declassamenti in serie da parte delle agenzie di rating poi pongono il paese sull'orlo del default. Mercoledì scadono oltre 100 milioni di dollari di pagamenti di cedole di due bond russi e se si concretizzasse la minaccia di Mosca di ripagare i paesi ostili in rubli, l'instabilità finanziaria del paese non farebbe altro che aumentare. Le dichiarazioni secondo cui non possiamo far fronte ai nostri obblighi di debito non corrispondono alla realtà, ha affermato il Ministero del Tesoro russo che poi ha definito le sanzioni e il congelamento dei conti in valuta estera di Mosca come un tentativo di orchestrare il default artificiale del paese. Veniamo dunque, dicevamo, al shock sui prezzi dell'energia senza precedenti a partire almeno dagli anni 70 per quel che ci riguarda. Naturalmente il governo è al lavoro. Da una parte l'ideale sarebbe trovare una soluzione comune almeno a livello europeo ma questa è un'ipotesi che per ora resta tale e dunque il governo deve anche sotto il pressing dei partiti spinto da quello trovare soluzioni alternative che trovino la sintesi in un nuovo decreto che aiuti a calmierare tutti i prezzi mentre si muove anche la procura di Roma con un'indagine. Bloccare subito i prezzi dell'energia senza aspettare l'Europa. I partiti di maggioranza e opposizione vanno impressi in su Palazzo Chigi cercando una sponda di fronte al caro benzina ma anche alle ricadute delle sanzioni alla Russia. Il governo già in settimana blocchi le accise l'IVA su benzina, luce e gas, chiede Salvini. I costi per lavoratori e imprese sono insostenibili, lo strumento lo indichi l'esecutivo che sia scostamento di bilancio decreto urgente ma non si può aspettare l'ok di Bruxelles. A dare nuovo impulso alle richieste l'allarme lanciato ieri dal ministro della transizione ecologica Cingolani che ha parlato di speculazioni, vere e proprie truffe sul boom del prezzo della benzina, aumenti finiti nel mirino della Procura di Roma che ha aperto un procedimento per il momento senza indagati e senza ipotesi di reato per verificare le ragioni di questo aumento e individuare responsabilità. Cingolani non dovrebbe solo lanciare allarmi ma intervenire la linea di Fratelli d'Italia dall'opposizione mentre gli azzurri chiedono l'audizione del ministro di fronte alla Commissione parlamentare per la tutela dei consumatori e rilanciano la necessità di uno scostamento di bilancio per finanziare nuove misure. E se Renzi propone di mettere un tetto al costo dell'energia, Letta guarda le compagnie petrolifere e chiede al governo di intervenire su un'eventuale truffa. Per restare uniti in questo momento è necessario calmierare gli effetti delle sanzioni alla Russia, spiega. Conte invece propone un intervento sugli extra profitti di alcune compagnie e vede il comparto assicurativo per agire contro il caro bollette. Molte ricette insomma nelle ore in cui Palazzo Chigi guarda l'Europa per una soluzione condivisa ma cerca misure nazionali da mettere subito sul tavolo del Consiglio dei Ministri che si terrà in settimana, probabilmente mercoledì. Adotteremo decisioni importanti per famiglie e imprese sul costo dell'energia, della benzina e delle bollette, annuncia il ministro Brunetta. Non possiamo perdere potere d'acquisto e competitività. Ricette ancora da mettere nero su bianco restano infatti le resistenze su uno scostamento di bilancio che libererebbe risorse. Non basta infatti differenziare le fonti per tentare di ridurre la dipendenza dal gas russo e da Banca Italia il governatore Visco avverte avanti con la transizione energetica ma va rallentata la dismissione delle centrali a carbone. In queste ore vanno garantiti approvvigionamenti più sicuri. Nel frattempo anche conti alla mano senza ulteriori interventi. Sono i numeri gli ultimi dati in audizione oggi alla Camera da Confcommercio. Per settori più stressati davvero ci sono dei costi extra in arrivo che non sono gestibili. I costi di produzione per tutto il terziario si parla di un aumento del 160%. Per il solo settore degli autotrasporti extra costi per 21 miliardi naturalmente in riferimento alla caro carburanti. Da questo punto di vista oggi è stata una giornata importante di mobilitazione non tutta autorizzata ma quel che è successo per esempio nel nord della Sardegna. È stata una protesta comunque che con ordine ha mostrato tutte le difficoltà di un settore già gravemente colpito. Non solo la Sardegna peraltro. A motore spento e mobili sulla corsia di destra per proteste con le doppie frecce i bisonti della strada si fermano in Sardegna. Il garante aveva vietato lo sciopero per mancato preavviso. L'Associazione Trasporto Unito che li rappresenta e aveva annunciato la mancata scesa in strada degli auto articolati aveva sconsigliato esplicitamente i presidi per lasciare la libertà alle singole imprese di non lavorare, di rimanere con i mezzi parcheggiati nei box. Questo nessuno lo può vietare. Il prezzo del gasolio si impenna. Ci sono imprese che non possono permettersi più di lavorare in perdita. Allora si fermano. Proprio oggi che il prezzo del diesel supera quello della benzina. In media arriva a 2,30 euro al litro per il servito. Ma in alcuni posti come la Sardegna sfiora i 2,50 euro. Nelle piccole isole arriva a 2,60 euro. E con un litro un tir percorre due chilometri e mezzo. Per questo la protesta torna in Sardegna e va oltre le indicazioni delle associazioni per far capire che così il mercato strangola questo settore. I camionisti dicono che per loro è impossibile andare avanti e lamentano perdite da 2.000 euro al mese. Se il prezzo del gasolio sale del 25,30%, siamo già sotto, spiegano gli autotrasportatori. Secondo la tabella del Ministero della Transizione Ecologica, dal 28 febbraio al 6 marzo il costo alla pompa di benzina è aumentato in media dell'88% e il gasolio da riscaldamento del 150%, questo una settimana fa. Domani si quantificheranno i nuovi aumenti degli ultimi sette giorni. In attesa oggi ecco i presidi con mezzi fermi davanti al porto di Cagliari, porto Torres e Olbia, Iannuoro nella zona industriale di Prato Sardo. Ieri sera protesta anche sull'autostrada vicino a Caserta e all'altezza di Nola. Decine di articolati hanno tirato il freno a mano e spento il motore e saltano le consegne che non convengono più. Si portano a termine solo quelle dove il committente riconosce il caro carburante e copre tutti i costi. È una lotta per la sopravvivenza, lo sciopero non c'entra. Oggi la circolazione dei mezzi articolati nel paese da nord verso sud è ridotta all'Associazione Trasporto Unito. arriva notizia di presidi a Civitavecchia, Lucca, Bologna, Savona. 5.000 tir fermi in Campania. Si attendono gli esiti della riunione di domani con il governo. Fermarsi oggi è una scelta economica. Insistono, nessuna rivendicazione. Aiutateci a lavorare. In primo piano anche a livello europeo restano naturalmente le sanzioni nei confronti dell'economia russa, possibilmente meno impattanti possibili poi per le economie occidentali. quel che sta succedendo a Mosca con il rublo che ha perso già 37% del suo valore, il rischio default di cui vi dicevamo. Peraltro pochi minuti fa il ministro delle finanze russo ha detto che verrà valutato l'uso dello yuan cinese come riserva valutaria alternativa. Sappiamo che le sanzioni in questo momento bloccano invece l'accesso alle riserve di euro e dollari per quel che riguarda Mosca. Ci sono conseguenze anche per l'Uccidente, per alcuni settori più colpiti di altri, soprattutto nel nostro paese. La guerra in Ucraina e le sanzioni in Russia cadono come una gelata sul settore delle calzature che stava tornando a crescere dopo due anni difficilissimi per la pandemia. Al Micam di Milano, fiera di riferimento per il settore, negli stand si respira tanta delusione. Questo imprenditore marchigiano produce per il 90% per Russia, Ucraina, Azerbaijan. Ora 8.000 paia di scarpe invendute, valore un milione di euro. Più colpiti distretti di Marche e Toscana che fanno più affari con l'export. La realtà qual è? Giacenze di magazzino, merce spedite non si sa se verranno pagate, ordini già fatti durante la settimana della moda diventerà carta straccia, non si sa, il rublo da 80 a 150 è una grossa problematica. Tra le cose che chiediamo, le prime due sono quantomeno il riconoscimento della cassa integrazione a zero impatto economico sulle aziende e ci stiamo battendo per i ristori. Questa imprenditrice a Kiev ha negozi da cui non riceve più notizie. I negozi sono praticamente chiusi, un negozio che avevamo a Cernicov è completamente sparito, un monobrand a Kiev e uno a Odessa, quello di Kiev è chiuso e sotto le bombe e anche la famiglia che aveva questo negozio è scappata, quindi non sappiamo assolutamente nulla. Colpito il settore del lusso. Una scarpa come questa in negozio costa sopra i 3.500 euro, è una scarpa interamente realizzata in pancia di alligatore e si rivolge a una clientela ovviamente molto facoltosa, clientela che adesso è stata particolarmente colpita e per noi è un danno doppio perché sono pelli che noi dobbiamo acquistare largamente in anticipo. Con il rublo depreciato gli ordini non vengono più pagati e la veluta straniera dei russi non può essere acquistata, annullate le fiere in programma questa primavera, Mosca e Kiev. In effetti fa un po' di sensazione sentire parlare i rappresentanti delle associazioni, richiesta di ristori, di cassa integrazione, tutto questo ci riporta a un capitolo che stiamo provando ad archiviare, quello del Covid, dei mesi di lockdown, eppure c'è un fronte economico che continua a mostrare tutte le sofferenze. sul capitolo pandemia, il 31 marzo, usciremo dopo due anni e due mesi dallo stato di emergenza, inizierà una nuova fase, che è una fase comunque, vale la pena sottolinearlo, di contenimento del virus e ancora una volta non siamo allineati ad altri paesi, in primis la Cina dove si torna al lockdown, pensate per oltre 17 milioni di cittadini. Mentre la Francia oggi dice addio al Green Pass e anche alle mascherine al chiuso, in Cina torna l'incubo del lockdown. Dopo la chiusura di ieri della città di Shenzhen, che ha 17 milioni di abitanti per via dell'aumento dei contagi, oggi tocca l'intera provincia di Jilin e i suoi 24 milioni di abitanti. Ieri qui sono stati registrati circa 900 nuovi casi. Ai residenti è vietato lasciare la provincia che confina con la Corea del Nord. Inoltre sono stati condotti cicli di test di massa e sono stati costruiti anche ospedali d'emergenza. Tutt'altro scenario invece per i governanti europei, che hanno deciso di allentare le restrizioni nonostante la lieve ripresa dei contagi. La Francia toglie l'obbligo di mascherine al chiuso, anche in scuole, cinema, teatri, negozi e supermercati. Il resto è obbligatorio nei trasporti pubblici e negli ospedali e non si dovrà poi più esibire il Green Pass. La media in Francia degli ultimi giorni è stata di circa 65 mila casi, quindi in leggera crescita. Nessun effetto per il momento dell'aumento della curva dei contagi sull'occupazione delle corsie d'ospedale. Stessa tendenza in Italia, anche se l'Organizzazione Mondiale della Sanità si dice preoccupata della possibilità che la guerra in Ucraina possa peggiorare la situazione della pandemia. Il tasso di vaccinazione nel paese martoriato dalla guerra è al 34%. Nonostante la leggera crescita dei contagi nel nostro paese, ieri sono stati 48 mila con 86 vittime, ci avviciniamo a grandi passi verso la fine dell'emergenza Covid. Data decisiva è il 31 marzo, quando finisce lo stato d'emergenza. Cosa accadrà dopo dipende da quale sarà la situazione epidemiologica tra due settimane. Per ora il tasso di occupazione delle terapie intensive e dei reparti ordinari è stabile, rispettivamente al 5% e al 13% sotto le soglie d'emergenza. Il Governo sta comunque lavorando alla roadmap sulle ultime possibili riaperture e deve decidere se rinnovare l'obbligo di mascherina al chiuso nei locali pubblici. Per non penalizzare il turismo e non rimanere indietro rispetto agli altri paesi europei, dal 1 aprile dovrebbe cadere l'obbligo del Green Pass rafforzato per bar, cinema, piscine e palestre, ma anche per i mezzi di trasporto, anche negli alberghi, musei e negozi. A scuola non sarà più obbligatoria la quarantena precauzionale se si viene a contatto con un positivo, anche se non si è vaccinati. La capienza negli stadi e negli impianti al chiuso tornerà al 100%. Andiamo avanti con le altre notizie del telegiornale. A Roma è cominciato il processo del Tribunale Militare nei confronti di Walter Biott. Si tratta del capitano di fregata, arrestato dai carabinieri del Rosso un anno fa, accusato di spionaggio per aver passato documenti segreti che riguardavano i sistemi di telecomunicazione militare a un funzionario russo in cambio di 5.000 euro. La Presidenza del Consiglio e il Ministero della Difesa sono stati ammessi come parte civile nel procedimento. Biotto, 56 anni, aveva il compito di decretare la sicurezza dei documenti dello Stato Maggiore della Difesa. Per questa vicenda, lo ricordiamo, il giudizio anche davanti ai giudici ordinari e per lui il processo si aprirà il prossimo 30 marzo. Adesso andiamo avanti dalla Corte di Appello di Milano. Oggi sono arrivate due assoluzioni pesanti e importanti. I dettagli. Sostenibili. Assolve. Mantovani Mario Parotti Gianluca da reato scritto al caso. Tutti assolti perché il fatto non sussiste. Non è stato commesso alcun illecito nella vicenda che ha portato al processo con accusa di turbativa d'asta su una gara da 11 milioni di euro per il servizio di trasporto di persone dializzate del 2014 il ministro del turismo Garavaglia, esponente della Lega, al tempo assessore Lombardo all'economia e l'ex vicepresidente della regione Lombarda Mario Mantovani, Forza Italia. Alla lettura della sentenza della Corte d'Appello non c'è Garavaglia in aula, ci sono i suoi legali, c'è invece l'ex forzista Mantovani. Alla fine della lettura c'è stata grande commozione. Sette anni di sofferenze, di tristezza, di sofferenza vera. Ho sperimentato la cattiva giustizia. Mario Mantovani in primo grado era stato condannato ad oltre cinque anni, era stato arrestato nel 2015 per corruzione e concussione turbativa d'asta. Prima dell'interrogatorio di garanzia aveva sempre sostenuto la sua innocenza, risponderò alle domande dei magistrati perché sono innocenti. Sono sette anni di calvario, sono finiti nell'unico modo in cui dovevano finire. Con un atto di giustizia è stato posto rimedio quello che era un gravissimo errore giudiziario. Durante la lettura del dispositivo i giudici non nominano mai il ministro Garavaglia. Il politico del carroccio era stato assolto in primo grado a metà luglio 2019. In appello la pubblica accusa aveva chiesto due anni. Una sentenza in primo grado che ha condannato tutti a pene gravissime è stata completamente rivoluzionata. Per Garavaglia c'era l'appello del PM, era già stato assolto. Quindi hanno tutti patito un processo che li ha fatti soffrire per anni e che è finito come voi avete sentito oggi. L'inchiesta nel 2015 fu fortemente criticata dall'allora segretario leghista Matteo Salvini. Ci fu uno scontro politico forte tra Lega e 5 Stelle durante il governo Renzi. Prima di fermarci per la pubblicità, un ultimo aggiornamento che riguarda un lutto nel mondo del cinema. È morto l'attore William Hart, aveva 71 anni a darne l'annuncio. Ufficiale è stata la sua famiglia, era malato da tempo. Hart negli anni 80 è stato protagonista di film che hanno fatto la storia del cinema. Da stati di allucinazione al grande freddo fino a brivido caldo e turista per caso. soprannominato il divo timido di Hollywood per il suo carattere sempre riservato. Hart aveva vinto il premio Oscar nel 1986 per il bacio della donna Ragno. Era stato candidato altre tre volte, in particolare per figli di un dio minore e dentro la notizia. Ci premiamo, vi dicevo, la pausa pubblicitaria e poi la pagina sportiva e naturalmente gli aggiornamenti. Di nuovo insieme alla seconda parte del telegiornale. Come di consueto respiriamo un po' con il campionato di calcio. Davvero avvincente, soprattutto per chi dava per finita anche la corsa allo scudetto della Juventus. Che numeri alla mano può fare la differenza, soprattutto al cospetto di questa Inter. che frena ancora, agguanta un pareggio in extremis dopo una partita giocata male e davvero arbitrata peggio. Guardarsi allo specchio e provare una sensazione di smarrimento. È lo stato d'animo di un Inter che esce di nuovo fragile dal fine settimana dopo l'illusione di Liverpool. I numeri sono impietosi. Solo sei punti nelle ultime sei partite con il derby perso, ormai diventato la madre di questa crisi conclamata. Il 5 febbraio la squadra di Inzaghi si presentava con quattro punti in più sull'accoppiata Milan-Napoli che in un colpo solo cominciava l'assedio alla vetta. E pensate che nel girone d'andata l'Inter nella striscia delle ultime sei aveva fatto il pieno. Adesso lo scudetto non dipende più da Dzeko e Sochi. Non basta il recupero di Bologna. Il pareggio contro un Torino vibrante non cambia il giudizio sulla prestazione negativa e senza Brozovic è come giocare senza la bussola. Non paga la scelta di Vecino, mentre il rientrante Barella viene neutralizzato da Buongiorno, la sorpresa di Juric. Inzaghi sceglie la nocchia per sostituire De Vrij, una sofferenza continua nei duelli con Belotti e la grazia concessa incredibilmente dall'arbitro guida e dal VAR che non concedono il rigore. Una decisione inaccettabile per il Toro, ancora senza nemmeno un penalty. Almeno il crollo nero azzurro è evitato grazie all'intuizione di Dzeko che prima sciupa occasioni da gol e poi illumina il graffio di Sanchez che si riabilita dopo l'espulsione in Champions, le prossime con Fiorentina e Juventus. Nei saliscendi della classifica riemerge il Napoli dopo lo schiaffo del Milan e lo fa in modo convincente contro un avversario tosto come il Verona affondato soprattutto dal cavallo pazzo Osimène che sfoggia gli acuti per il secondo posto. Indovina tutto Spalletti rimodellando la squadra, fuori Insigne e Zielinski, centrocampo a tre con Fabian Ruiz, uno dei migliori nonostante un principio di pubalgia. La squadra di Tudor sul 2-1 paga nel finale l'espulsione esagerata di Ceccherini ma Napoli è vivo e per il lascio finale il tecnico ha tante opzioni. Scendendo nei territori dell'Europa League e della Conference registriamo l'andamento lento della Roma e dell'Atalanta insieme al quinto posto e frenate dalla pareggite dopo le coppe. Murigno esprime la delusione non facendo sconti ai suoi per l'atteggiamento con l'Udinese. Solo un paio di calciatori con la testa giusta. Deve ringraziare le parate di Lu Patrizio e il rigorino concesso al 94-1 da Ribello. 8 gare per la Roma senza KO e domenica c'è il derby con la Lazio che può firmare il suo passo se stasera batte il Venezia. In agguato c'è la Fiorentina dopo la vittoria di misura sul Bologna. Poi c'è il tennis con il debutto sofferto ma vincente per Matteo Berrettini sul cemento californiano di Indian Wells entrato in tabellone direttamente al secondo turno il 25-0 romano numero 6 del mondo abbattuto in poco più di due ore. Il giovane danese riunne con i parziali di 6-3, 4-6, 6-4. Berrettini adesso si giocherà un posto negli ottavi contro il sudafricano Harris prima di lui nella notte italiana tornerà in campo anche Sinner sempre nei sedicesimi di finale. L'azzurro affronterà il francese Bonzi che ieri ha sconfitto in 2-7 proprio il nostro Sonego. A proposito di colori azzurri si è conclusa con grande soddisfazione la Paralimpiade di Pechino con sette medaglie. La soddisfazione del presidente Pancalli sono due in più dell'edizione di Pyeongchang e lo sapete è un'edizione, quella dei giochi invernali in cui erano stati esclusi gli atleti russi e bielorussi che si sono costruiti per così dire un'alternativa in casa. La Paralimpiade di Pechino si è appena conclusa ma un'altra o qualcosa di simile sta per aprirsi e non è quella di Milano Cortina 2026 a cui i giochi cinesi hanno idealmente passato il testimone nella cerimonia di chiusura tra sorrisi forzati e surreali fuochi d'artificio in un cielo notturno che a longitudini differenti è illuminato solo dai missili. L'annuncio è arrivato stamattina. Russia e Bielorussia, escluse dai giochi cinesi dopo lo scatenamento della guerra all'Ucraina, peraltro straordinaria protagonista a Pechino, seconda nel medagliere dopo la Cina, hanno ufficializzato oggi l'organizzazione di una manifestazione parallela la prossima settimana nella città siberiana di Kanti-Mansinsk con sei discipline inserite nel programma dell'evento sci alpino, scinordico, biathlon, curling, snowboard e hockey. Le due nazionali erano state bandite dai tredicesimi giochi paralimpici invernali sulla spinta di molti comitati paralimpici che avevano minacciato il boicottaggio se non fosse stata decretata l'esclusione delle due rappresentative pur inizialmente mantenute nel programma. Una decisione definita dal cremlino antisportiva e puramente politica ma che aveva destato in realtà anche tra altri membri dell'organismo paralimpico mondiale qualche perplessità nei riguardi degli atleti, penalizzati anche per colpe non dirette. Con l'aggravarsi del conflitto tuttavia sembra ormai impossibile invocare lo spirito dello sport che dovrebbe unire e non dividere. E proseguono così ad ogni livello e in ogni disciplina le sanzioni. Stamattina la Federazione Internazionale del Tennis ha comunicato le modalità di sostituzione della Russia detentrice della Coppa Davis ma esclusa dalla competizione causa conflitto. Il posto della Russia per i cui colori Medvedev e Rublev avevano conquistato l'insalatiera d'argento sconfiggendo la Croazia nel 2021 sarà assegnato tramite ripescaggio di una delle 12 squadre sconfitte nei preliminari del 4 e 5 marzo scorso. La stessa decisione è stata presa anche in campo femminile per la Belizion King Cup e come nel caso delle Paralimpiadi riguarda anche la Bielorussia. Allora prima di chiudere gli ultimi aggiornamenti che ci riportano in particolare alle notizie che ci arrivano dalle zone del conflitto dove dice l'ONU finora sono fuggite 2,8 milioni di persone potrebbero essere di più perché notizia di pochi istanti fa finalmente si è aperto un corridoio umanitario garantito nella sua sicurezza anche dai russi dalla città di Mariupol che lo ricordiamo è sotto assedio delle forze russe da due settimane garantita questa sicurezza sappiamo quanto non è andato anche nel rimpallo di responsabilità sui corridoi umanitari nelle scorsi giorni in questo caso il portavoce del sindaco sostiene che ci sono colonne di auto di civili in fuga da una città martoriata e distrutta. Approfitto per ricordarvi ancora una volta la possibilità di dare un contributo con la nostra sottoscrizione la 7, Tg la 7 insieme al Corriere della Sera una raccolta di fondi un aiuto subito con lo scopo di aiutare la popolazione ucraina a sostenere anche le organizzazioni umanitarie a partire dalla Croce Rossa che offrono assistenza vedete l'Iban per le donazioni poi tutte le altre informazioni per le sottoscrizioni dall'estero e l'utente grande beneficiario consente di non pagare commissioni nei versamenti usando questo codice che vedete indicato. Vi ricordo allora per quel che riguarda il telegiornale lo speciale anche oggi alle 17 con il direttore Enrico Mentana informazione che continua e non vi lascia sulla 7 Tiziana Panella e Tagadà Buon proseguimento e arrivederci Grazie a tutti! Grazie.